Ciao a tutti ragazzi del JTF Clan, sono JTF Minino e bentornati qua sul nostro canale con un nuovo video. Oggi sono qua per proporvi questo altro nuclear molto molto veloce in deathmatch, ve ne propose due già nel corso della settimana scorsa e ho notato che mi sono piaciuti quindi ho pensato di portarvene un altro. Si tratta di un nuclear molto simile a quello che appunto avete visto settimana scorsa su standoff, infatti è stato fatto in 105 secondi su standoff con la stessa arma, con lo scar silenziato. Quindi anche questo penso possa essere un fattore molto carino in quanto se ci pensate bene giocare senza silenziatore, cioè senza caricatore rapido e col silenziatore ti fa perdere un po' di tempo. Sto di fatto che sono state effettuate all'interno della partita ben due uccisioni a catena che a parere mio è una cosa non molto difficile da fare e però resta un piccolo rammarico sulla partita in quanto la prima kill è distaccata di 13 secondi dalla seconda. Quindi se fate 105 meno 13 viene 92 secondi, quindi se fosse stato un po' più rapido tra virgolette a fare la prima kill avrei potuto molto molto semplicemente chiudere un nuclear 700 secondi che è un obiettivo a mio parere molto buono da raggiungere. Mi scuso se non sto facendo il commentare in facecam come ormai io ho abituato che appunto a voi piace, se no che potete ben capire 100 secondi di commentare in facecam non ne vale neanche la pena perché comunque non fate neanche in tempo a vedermi bene in faccia che boh è finito il video. Se sentite un po' gli uccellini che ci inguettano non ci posso fare niente, sono un campagnolo bolzanino, no non è vero sono in città però ci sono gli uccellini lo stesso, spero non si sentano e che soprattutto non vi diano fastidio. E nulla vi dico velocemente la classe prima che il video giunga al termine era uno scar silenziatore calcio e non mi ricordo se avevo destrezzo al c4, comunque credo il c4, avevo inflessibile antischeggio, sciacallo acciaio e il c4. Quindi più o meno questa è la partita in generale, purtroppo il video sta già giungendo al termine, io spero davvero che vi sia piaciuto, se così vi invito a fare un salto sul mio canale, passare da tutti i link che trovate in descrizione, twitter, facebook e via così. E nulla spero ancora che vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento, se ancora non siete iscrivetevi al canale del gtf clan, per oggi da gtf medino è tutto e bella.